Per il combattimento le galee si schieravano fianco a fianco su una linea di fronte leggermente incurvata a mezzaluna, con la concavità rivolta verso la flotta nemica che si avvicinava con la stessa formazione e su rotta opposta. Questa formazione iniziale di combattimento era logica, poiché in essa ogni galea risultava protetta sui fianchi dalle due adiacenti e non esponeva così alle offese nemiche le sue parti più venerabili, cioè il palamento dei remi, ovvero l'apparato motore, e i rematori, ovvero la forza motrice. Inoltre questa formazione faceva sì che ogni galea presentava al nemico la prora, cioè la sua parte più resistente alle offese e meglio armate, grazie alla presenza dei cannoni. A proposito di quest'ultimi, va però ripetuto che le artiglierie dell'epoca avevano una gettata assai limitata e un lento ritmo di fuoco. Essi venivano perciò impegnati a distanza molto ravvicinata, in modo da infliggere il massimo dei danni materiali e di perdite umane alla galea nemica, poco prima di investirla o di abbordarla con i soldati. Al centro della formazione, schierata in linea di fronte per il combattimento, si trovava la galea del comandante in capo, che si chiamava la Reale, se vi era imbarcato il sovrano o un suo rappresentante. La galea dove invece era imbarcato l'ammiraglio, o come si diceva a Venezia il capitano generale d'Omar, si chiamava la capitana e per farsi riconoscere portava sulla poppa tre alti fanali riccamente decorati. Ai due estremi dello schieramento si trovavano le galee dei due capi più elevati in grado dopo il capitano generale. Essi avevano il compito di difendere le ali della formazione dai tentativi di aggiramento del nemico e tentare invece di aggirare le sue ali estreme. Queste galee si riconoscevano perché portavano a poppa un grande fanale. In generale lo schieramento comprendeva un gruppo di galee centrale, due gruppi di galee sui due lati e uno di riserva in posizione arretrata. Tra i vari gruppi esisteva generalmente una distanza di circa 80 metri, mentre le galee di ogni gruppo navigavano il più vicino possibile tra di loro, compatibilmente con l'uso dei remi, circa 20 metri l'una dall'altra, in modo da potersi aiutare in caso di bisogno e da impedire infiltrazioni di galee nemiche.